Uè! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi DAIE che finalmente ci siamo! Dovrebbe, dico dovrebbe perché ho registrato questo video poco prima delle due di oggi del mattino, dovrebbe esserci la Ghoul Trooper nello shop! Il tweet di Fortnite di ieri è stato praticamente la conferma del ritorno di una delle skin più desiderate e che ahimè purtroppo non lo saranno più se non per quelli che ce l'hanno di colore rosa e quindi gli OG player! Ma tante altre novità nel video di oggi parleremo anche di un trucco fantastico, totalmente non bannabile perché è un colpo di genio per tutti quelli che non riescono a completare la sfida del re della tempesta! Non ci voleva un genio per arrivarci, vi faccio vedere come vincere praticamente tutte le partite! E ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite! Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi seguono in live su Twitch dalle 8 alle 18 e ovviamente grazie mille ragazzi a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator, Xioderone, un super supporto ogni giorno in entrambi i casi mi raccomando iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video! Prima però e ve la devo e ve la devo fare la domandina ci tengo tantissimo ai vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi veramente molto molto semplice Ma te cosa ne pensi della nuova modalità re della tempesta? Io personalmente l'apprezzo tanto, mi piace! Tra l'altro ci sono state delle piccole modifiche che vi dirò nel corso di questo video che vi faciliteranno anche il compimento appunto di tutta la sfida 20 minuti ma sono 20 minuti veramente intensi, molto bella l'idea, un boss comune, mi piace! Io gli do un 7 come modalità assolutamente meritato, ma quindi ciancio alle bande! E bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere, eccolo qua, il tweet di Epic Games che conferma proprio Il ritorno della Ghoul Trooper 704 giorni di attesa ci hanno separato dall'arrivo appunto di questa skin che vi ricordo viene in realtà data con una variante per tutti Quindi la variante verde chiaro con i capelli bianchi davvero molto bella! Anzi se devo essere sincero mi piace di più la variante verde chiaro con i capelli bianchi che la versione classica Non dimentichiamoci comunque che tutti quelli che hanno acquistato la Ghoul nell'ottobre del 2017 Quindi durante il primo Fortnite Mers lo hanno rosa quindi hanno la variante, l'outfit rosa che appunto è un ringraziamento da parte dello staff di Epic Games per tutti quelli che hanno creduto nel gioco sin dall'inizio E andiamo avanti con il prossimo argomento, ecco ragazzi alcune news sulla nuova skin Bonnie Pili Mi sembra che si chiama in inglese, in italiano ovviamente non sappiamo ancora la traduzione Come vi dicevo nel video di ieri non è una variante della skin bananita ma è proprio una skin dedicata Tra l'altro davvero curioso perché mostra proprio uno scheletro dentro alla banana e il cervello, quel lì mi sembra a me un cervello E' a parte bassa o è l'intestino, sinceramente non lo so ragazzi Non mi interessa saperlo ma la cosa incredibile è che questa, incredibile, la cosa interessante, sembra che è chissà cosa La cosa interessante è che appunto Pili Bone per la precisione il nome della skin Ossa di banana, dovrebbe, però è banana osso, banana osso, non lo so E questa skin verrà proposta nello shop il più presto possibile e avrà anche un'emote unica Sapete che ci sono alcune skin che hanno le emot dedicate, mi viene in mente la skin glow ad esempio O la skin iconic, questa ragazzi avrà l'emote che si chiama Xilo Bone Xilo è uno xilofono no, praticamente quello che vai a martellare con le bacchette E sarebbe l'emote che viene presentata anche nel trailer Quindi non sappiamo la rarità della skin, io credo 1500 V-Bucks Quindi una rarità epica per una skin da collezionare E andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi Volevo appunto soffermarmi un attimo sul re della tempesta Una delle modalità davvero più interessanti E un ottimo inizio per un'eventuale collaborazione di team nel battle royale Nella variante del battle royale di Fortnite Perché è la prima volta in realtà che si gioca tutti assieme per un obiettivo comune Veramente molto molto azzeccata l'idea Una cosa che mancava e che è sicuramente almeno da parte mia gradita Però ci sono dei problemi in questa modalità E molti si lamentano che non è assolutamente facile portare a termine proprio la sfida Quindi eliminare completamente il re della tempesta Ci sono i punti deboli, dobbiamo distruggergli le due corna, una alla volta Fino a che poi la barra in alto diventa viola E dobbiamo terminarlo, solo che quella parte lì è la più difficile Il re della tempesta da adesso però spawna meno punti di spawn degli zombie Quindi sarà un po' più facile e meno invasiva da parte degli zombie la partita Ma ragazzi c'è un trucco geniale per vincere tutte le partite Guardate un po' queste immagini Basta semplicemente una volta che siete appena atterrati Quindi quando la safe si sta stringendo Farmate subito come i pazzi il materiale e preparatevi una skybase Partendo dall'esterno la skybase vi permetterà di arrivare esattamente al centro Sopra al mostro e quindi easy, tranquillamente poterlo hittare Il problema è che ve la dovete giocare in un certo modo Nel senso, il problema della skybase non potete prendere armi e munizioni Come fareste invece se foste vicino al mostro Quindi cercate di prendere qualcosa e piuttosto aspettate la fine Hittatelo con i colpi che avete Ci vuole un po' di pazienza Però potrebbe essere proprio il modo corretto per riuscire a portarsi a casa Magari una partita che invece potrebbe essere spacciata E andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi Forse non lo sapete ma arriva una nuova collaborazione Da parte di Fortnite con Epic Games O meglio, una collaborazione interna Questa è una skin che è stata trovata nei file di gioco La skin si va a inserire nel contesto del nuovo titolo Che verrà rilasciato per cellulare sempre in casa Epic Games Che si chiama Battle Breakers Non so se lo conoscete Io sinceramente non lo conoscevo prima di scoprire questa skin Verrà rilasciato tra poco Tra le altre cose abbiamo anche un filmato Una parte promozionale di questa skin Con tanto di skin in game proprio Davvero carina Se devo essere sincero non ci sta assolutamente male come skin È molto carina Un qualche tratto di steampunk Nella parte alta Molto molto bella Intanto la stiamo vedendo anche con un balletto particolare Ed eccola invece proprio qua La skin in game trovata proprio nei file di gioco da poche ore Il backpack è davvero molto simpatico Già ce lo vedo abbinato ad esempio alla skin della diavolessa E abbiamo Una delle emot che arriveranno prestissimo in questo Halloween Secondo me è una delle più belle Questa è veramente di attentissima Anche la musica E quindi una skin ragazzi che va appunto a fin A solidificare questa collaborazione E questa promozione del nuovo Battle Breakers Se avete voglia di provare un altro titolo di Epic Games Beh forse questo potrebbe essere una scelta Se volete perdere un pochettino di tempo Io ragazzi vi ringrazio tantissimo Per avere guardato anche questo video delle news Mi raccomando iscrivetevi al canale Noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch Ciao Ciao